Non si ferma Barre Faheli, la splendida top model israeliana che lo scorso ottobre ha dato alla luce L, la seconda figlia nata ad appena un anno di distanza dalla primogenita Lid. Dopo il record di due figlie in due anni, la modella 32enne nota anche per aver avuto una chiacchierata storia con Leonardo DiCaprio si gode la maternità insieme al marito a di Ezra, ma è intenzionata a sfornare presto altri pargoli. L'ho raccontato in un'intervista a Grazia. Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l'esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia. Ho deciso di prendermi una pausa di un anno, forse due, ma non voglio far passare troppo tempo. Il mio sogno è avere quattro bambini. Fare figlia è la cosa più bella al mondo. Permette di scoprire aspetti nuovi di sé. Dopo un matrimonio con Rick Weinstein durato solo due anni e la relazione con DiCaprio è durata fino a 2011, Bar-Refaeli è conosciuto a di Ezra, imprenditore israeliano, nel 2012. Dopo il matrimonio celebrato nel 2015, sono diventati genitori di Liv, nata l'11 agosto 2016. Appena sette mesi dopo, la Refaeli era di nuovo incinta. L, venuta al mondo il 20 ottobre 2017. A differenza di tante star, la modella ha scelto di non pubblicare foto social delle bimbe. Evitando la loro esposizione al grande pubblico, abbiamo una vita normale, senza la paura di essere sorpresi quando le accompagno all'asilo o andiamo in aeroporto. In a di Ezra, presidente della Net Home Holdings, azienda israeliana del settore alimentare, Bar ha trovato la sua anima gemella. Senza rinunciare per questo alla sua carriera. E' il mio mondo, ma non l'unico che ho. Ho il mio lavoro e lui non ha mai bloccato le mie aspirazioni di carriera. A di è il mondo che posso riempire anche con altri mondi. Perché la cosa importante in amore è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c'è anche un altro universo. Chi se ne frega.